Grazie a Radomus, grazie a tutti voi, è sempre un piacere essere qua a Bergamo, anche se oggi andremo a parlare di un qualcosa di intrigante, di stimolante, un giallo, un qualcosa di un po' diverso dalle altre lezioni, dagli altri incontri che abbiamo fatto. Questo è un giallo perché effettivamente bisogna trovare l'assassino ed è una storia vera, tra l'altro poco nota, dell'età napoleonica. Stiamo parlando dell'attentato di Rue Saint-Niquès del 24 di dicembre 1800, tre nevoso per gli appassionati di realtà rivoluzionaria napoleonica. Allora, partiamo subito, che cosa è successo? Beh, ci troviamo in Rue Saint-Niquès che è una via praticamente scomparsa, oggi si trovava nell'area di Place de Carousel ed era una via con degli edifici antichi, alcuni anche medievali, abbastanza faticenti tra l'altro ci dicono le cronache. Questa via era una via di transito particolarmente sfruttata per passare dalle Tuileries e andare nell'area più centrale di Parigi, in modo particolare se si doveva andare verso l'Opera. E infatti Napoleone quel giorno la utilizza per andare proprio all'Opera, dove davano la creazione del mondo di Haydn. Una carretta in mezzo alla Rue Saint-Niquès deve intralciare il traffico quel tanto che basta per creare una straccia. Una ragazzina, si chiamava Marianne Pissol, viene incaricata di tenere la carretta, vengono affidate le briglie, le redini di una cavalla. Lei ha 14 anni, fa la venditrice di panini, una ragazza di origini estremamente umili, è una ragazza probabilmente che non ha mai avuto modo di avere degli incarichi di lavoro di un certo livello. Ed è contenta di poter avere qualche soldo per tenere questa carretta, perché da lì passerà il corteo di Napoleone e lei sarà in prima fila per poterlo vedere. Certo è un lavoro facile, ma avverte un certo nervosismo da parte della persona che le ha affidato questa carretta. Ogni tanto va e viene, tranquillizza la ragazza, guarda che tra poco mi riprendo il carretto e finalmente arrivano le carrozze. C'è una grande ressa, perché si sa che quelle sono le carrozze di Napoleone, si sa dove probabilmente sta andando, cioè all'Operà, e la notte di Natale la gente si affaccia alle finestre, saluta la carrozza dell'allora primo console e le carrozze incontrano la carretta parcheggiata in Colsoniches, devono fare una certa manovra per poterla aggirare, perché la carretta occupa la strada, che è una strada stretta, la carrozza di Napoleone passa, quella dietro viene investita da una terribile esplosione, però Napoleone si trova nella carrozza che è riuscita a sfuggire alla detonazione. Tra l'altro Napoleone pare che dormisse in quell'occasione, si era addormentato, così dicono i resoconti, e così tra l'altro raccontò anche Napoleone di aver sognato la battaglia del tagliamento, una sconfitta durante la campagna d'Italia. Non sappiamo se esattamente le cose siano andate così, anche perché Ruys & Niques è decisamente vicino alle tuilerie, avere il tempo di addormentarsi nel tragitto è un po' improbabile. Però a ricordare l'aneddoto sono stati molti, tra l'altro anche Freud, e si può dire che Napoleone perlomeno stesse sonnecchiando, o comunque fosse distratto, e l'esplosione lo ha immediatamente ridestato. Sono scesi per dare una rapida occhiata, ma improvvisamente è stato loro consigliato di riprendere il tragitto, di evitare che una nuova esplosione ipotetica potesse avvenire, e quindi la carrozza di Napoleone in tutta fretta si dirige all'Opera, dove la voce è già circolata, Napoleone arriva, vi è una standing ovation, lunghi minuti di applausi, perché il primo console è riuscito a scampare a un attentato. Sul posto restano circa 22 cadaveri, circa perché le cronache sono un po' imprecise, sono all'incirca 22 cadaveri. Molti di loro sono identificati e a questo punto bisogna capire chi sono i responsabili. I responsabili di un attentato di queste dimensioni possono essere, secondo Napoleone, soltanto i Giacobini, cioè gli oppositori di estrema sinistra. E qua si apre un discorso squisitamente politico, cioè chi sono gli oppositori di Napoleone? Perché Napoleone è primo console, tra l'altro da poco, ma deve ancora consolidare il suo potere. E il potere di Napoleone in questo momento è contestato da due tipi di opposizioni, l'opposizione di sinistra e l'opposizione di destra. È anche uno dei motivi per cui è difficile capire oggi il fenomeno di Napoleone, perché noi siamo abituati a dare una lettura politica a certi personaggi. Ebbene, Napoleone nel corso della sua lunga carriera ha anche mutato determinate posizioni da anticlericale intransigente degli albori e poi diventato colui che ha invitato il Papa a Parigi per la propria incoronazione e che ha sedato molte delle accredini che vi erano tra la Rivoluzione e la Chiesa Cattolica. E di qua in avanti si potrebbero raccontare molti punti sui quali Napoleone ha saputo porre un freno agli eccessi della Rivoluzione. Dunque, per l'epoca, interpretando il fenomeno Napoleone con gli occhi dei rivoluzionari più intransicenti, Napoleone era un traditore, era un traditore della Rivoluzione, era un traditore di tutti quegli ideali genuini che avevano portato Luigi XVI al patibolo e che avevano portato la Francia ad essere una Repubblica. Quegli ideali erano ideali rivoluzionari, Napoleone un traditore della Rivoluzione e dunque dobbiamo opporci a lui in ogni modo. Dall'altra parte abbiamo l'opposizione di destra e l'opposizione di destra è un'opposizione particolarmente fiera e orgogliosa dell'essere invece rimasta fedele all'ancien regime e quindi di essere fedele agli ideali monarchici, cattolici, che avevano contraddistinto la monarchia francese da sempre possiamo dire. Quindi in entrambi i casi noi abbiamo due tipi di opposizioni, due opposizioni particolarmente coese nel nome di ideali che ormai erano ideali particolarmente stratificati nella storia. Non parliamo degli ideali monarchici ma quelli rivoluzionari avevano saputo fare una letteratura e avevano particolarmente segnato la storia della Francia degli ultimi anni. Ed ecco dunque che queste due opposizioni estreme diventano chiaramente le piste da seguire per l'attentato di Rosanniches. Ora, i Giacobini sono la pista prediletta da Napoleone e questo perché i rivoluzionari erano coloro che avevano mandato a morte il re, erano coloro che avevano mandato a morte migliaia e migliaia di innocenti alla ghigliottina e dunque insomma porre una bomba e far morire qualche decina di persone era cosa insignificante, almeno questo nel pensiero di Napoleone, il quale era così convinto della colpevolezza dei Giacobini da non aspettare nemmeno l'esito delle preliminari indagini. Ma immediatamente dopo l'esplosione di Chris Anniches, Napoleone emana un editto nel quale invia in Cayenna, cioè al confino, agli estremi liti del mondo, 130 Giacobini oppositori che erano già segnalati per essere potenziali nemici del regime, per cui si ricevono un bel biglietto di sola andata per la Cayenna, posto che noi oggi andiamo in vacanza, ma che all'epoca era considerato un bagno penale, e in questa maniera Napoleone riesce a fare un bel repulisti degli oppositori più intransigenti. Non solo, manda a morte un certo numero di oppositori che invece avevano davvero congiurato contro di lui. Stiamo parlando di una congiura avvenuta poche settimane prima, quindi si può capire perché Napoleone avesse questo timore nei confronti dell'opposizione di sinistra. Questa congiura è una congiura tutta l'italiana ed è una congiura poco nota, la cosiddetta congiura dei pugnali, operata da, vi dicevo, da degli italiani in modo particolare, ferventi Giacobini, Giacobini rivoluzionari della prima ora, ed era guidata da un romano, dallo scultore Giuseppe Ceracchi. Ceracchi era tra l'altro un amico di Napoleone, almeno conosceva Napoleone anche per la sua professione di scultore, in quanto aveva realizzato un busto di Napoleone e sotto sotto diceva che l'ultimo colpo di scalpello non sarebbe stato vibrato sul busto ma sul cuore del primo consule. Quindi era già un personaggio particolare, esagitato, che meditava di accoltellare Napoleone all'Opera, quindi l'Opera ritorna all'interno di questa vicenda. Con lui altri artisti, quasi tutti sono artisti, Giuseppe Arena, Topinol Lebrun e De Merville, sono questi quattro in modo particolare ad essere stati coinvolti in questa congiura dei pugnali che ha dei contorni abbastanza fumosi, questo perché ovviamente non è stata posta in essere, anzi all'interno di questi gruppi di estrema sinistra si erano introdotti ovviamente degli esponenti della polizia politica di Napoleone, quella guidata da Fouché, il quale già da subito era stato messo sulla pista di questi potenziali estremisti e aveva inserito all'interno del gruppo alcuni membri della polizia in modo tale da poterli sorvegliare. Dopo appunto un controllo su queste figure, dopo averli seguiti e studiati, si è arrivati al giorno fatidico in cui Napoleone doveva essere accoltellato, ma Ceracchi viene semplicemente fermato dalle guardie all'Opera, disarmato e chiaramente messo in prigione. L'avvenimento di Roussaint-Nichès sconvolge l'opinione pubblica e Napoleone ritiene doveroso a questo punto dare un segnale molto forte, che è quello di intervenire subito, individuare subito i colpevoli e mandarli a morte. Ci sono questi quattro elementi in carcere, bene tutti quanti alla ghigliottina, in modo tale da poter dare un'immagine forte del regime che sa intervenire, individuare i colpevoli e anche togliersi di torno dei potenziali nemici che sono nemici della rivoluzione, almeno di quella rivoluzione che ormai è incarnata da Napoleone. Quindi questo è l'obiettivo che si pone il primo console, che è riuscito a togliersi di torno l'opposizione di sinistra. Fouché però continua a suggerire che questa non sia la pista da seguire. Fouché fin da subito ha iniziato un'analisi particolarmente attenta degli avvenimenti e si è reso conto che per organizzare questa esplosione bisognava essere molto ben organizzati, bisognava magari avere degli appoggi, degli appoggi anche oltre manica e quindi l'esplosione di questa nichese potrebbe essere stata anche protetta dagli inglesi e inizia fin dai primissimi giorni un'analisi di quelli che sono stati i preparativi dell'attentato, facendo cosa? Andando a recuperare i pezzi del carretto, i pezzi della cavalla e naturalmente i brandelli di corpi delle vittime, alcuni dei quali vengono trovati addirittura sui tetti delle abitazioni. Teniamo conto che appunto questo nichese era una via stretta, una via con palazzi abbastanza faticenti, per cui recuperati tutti i frammenti possibili, Fouché inizia a indagare e ovviamente tutto questo è stato fatto nelle ore immediatamente successive all'attentato anche per capire l'identità dei corpi, per cui noi abbiamo i nomi e cognomi delle vittime e ad esempio possiamo ricostruire la storia della povera ragazzina che è stata condannata a morte in maniera deliberata perché doveva tenere la carretta. Si chiamava appunto Marianne Pissol aveva 14 anni, viveva in Rudy Buck con la famiglia ed erano tutti quanti delle povere persone, vivevano gli espedienti, facevano i venditori ambulanti. La famiglia viene a rivendicare il corpo della ragazzina e così come avviene per tutti gli altri caduti di quella giornata. Altri moriranno nei giorni successivi per le ferite, sono circa 100 i feriti pare durante questa esplosione, quindi fu un'esplosione particolarmente violenta e si ricostruisce anche le dinamiche, cioè come è avvenuta questa esplosione. Allora per Fouché fu messa in atto una specie di macchina bellica, a tutti gli effetti un ordigno, quella che passò alla storia col nome di macchina infernale, la machine infernal, che è un nome che deriva da un altro ordigno simile messo in atto durante l'assedio di Anversa del 1585. La macchina infernale in questo caso era azionata da una spingarda che metteva in moto un meccanismo che portava alla deflagrazione di alcuni barili contenenti polvere da sparo e ferraglia, chiodi, oggetti accuminati che quindi esplodendo potevano dilaniare i corpi e creare quanto più danno possibile. Tra l'altro l'esplosione fu così violenta che alcuni dei palazzi adiacenti alla carretta ricevettero dei danni tali che poi furono demoliti e anche per questo motivo, anche poi per dare ariosità alla zona del carousel, che fu allargata a Place de Carousel e fu demolita a San Niquez. Tanto le palazzine erano faticenti e dovevano essere demolite. La ricostruzione degli avvenimenti prosegue ricomponendo i pezzi del carretto, si va a cercare chi ha venduto quel carretto, si va a cercare chi ha venduto la cavalla. Ci sono brandelli abbastanza significativi per poter ricostruire e risalire al proprietario originale della cavalla, il quale sostiene di aver venduto il tutto a un monarchico che si chiamava Carbone. Questo Carbone viene chiaramente rintracciato e da lì Fouché ha i dettagli per poter iniziare a mettere insieme i pezzi del puzzle. Non era una pista rossa. A far esplodere la carretta, a provocare i morti di Ressenniquez, furono i monarchici e furono i monarchici bretoni. Prende dunque forma la convinzione che dietro l'attentato ci siano gli Chouin, cioè gli insorgenti controrivoluzionari della Bretagna. Gli Chouin sono una parte molto importante della controrivoluzione francese, di solito si ricordano gli insorgenti vandeani, perché hanno avuto un ruolo attivo nella storia della rivoluzione, arrivando a minacciare addirittura l'esistenza della Repubblica tra 1793 e 1794 e poi, come sappiamo, la controrivoluzione vandeana finì con i massacri e con quello che taluni storici oggi annoverano come genocidio vandeano. Gli Chouin erano i combattenti bretoni ed erano un genere come tipico dei bretoni, stavano per i fatti loro, combattevano in maniera indipendente. Qualche Chouin partecipò alla campagna della Vandea, specialmente quando vi fu la Virè de Galerne, ma non si mescolarono troppo con la controrivoluzione vandeana, anche perché la controrivoluzione in Vandea aveva formato la cosiddetta Armée catholique royal, cioè l'armata cattolica, un vero e proprio esercito, mentre la controrivoluzione in Bretagna tendeva ad essere più una forma di insorgenza dal punto di vista della guerriglia e quindi si trattava di due forme belliche diverse. A guidare l'insorgenza in Bretagna era stato un personaggio, potremmo dire straordinario, che si chiamava Georges Cadoudal. Cadoudal era un figlio di piccoli proprietari terrieri della Bretagna, nato all'estremità della Bretagna sull'Atlantico ed era una specie di Bud Spencer di fine Settecento, un omone gigantesco dotato di forza ercolina che era stato in grado effettivamente con la sua carisma, con la sua figura, di essere un vero e proprio leader della controrivoluzione in Bretagna. Cadoudal in quegli anni, negli anni del consolato di Napoleone, si divideva tra la Bretagna, specialmente le isole della Bretagna e l'Inghilterra, perché sperava di trovare quegli appoggi che erano poi mancati ai Vandeani e che lui disperatamente cercava oltre manica. Appoggi, soldi, coperture, Cadoudal era diventato non soltanto un guerrigliero, ma anche un politico, un diplomatico a suo modo della causa insorgente senza ottenere particolari appoggi, anche perché la posizione dell'insorgenza Bretone era particolarmente critica in quegli anni. Non si può dire che con la fine della controrivoluzione in Bandea la Bretagna abbia avuto un esploit nella sua azione controrivoluzionaria, semmai rimase una guerriglia latente, ma non ebbe quei momenti epici e drammatici che ebbe anche la controrivoluzione in Bandea. Per cui Cadoudal e i bretoni Schwan che erano con lui divennero sempre più speranzosi di un appoggio verso l'Inghilterra. In questo Fouché aveva visto giusto, la pista da seguire era quella di questi insorgenti bretoni che in qualche modo volevano ammazzare il primo console perché rappresentava la rivoluzione che ce l'ha fatta. La rivoluzione che veste nuovi panni, quelli tra un po' dell'impero, per mascherare i suoi crimini e per continuare a perpetrarsi. Di fronte alle prove ormai sempre più concrete che si trattava di una pista nera, Napoleone non può che rendere conto del fatto compiuto e proseguire le indagini contro i bretoni. Tra l'altro un po' contro voglia, questo perché Napoleone ha sempre avuto un'enorme stima di Cadoudal e sapere che si trova lui dietro questo attentato lo riempie di un sentimento molto bizzarro. Napoleone non ha mai esitato a mandare a morte le persone che considerava pericolose. Ebbene, con Cadoudal ha cercato più volte degli abboccamenti per nominarlo suo generale, per nominarlo maresciallo, maresciallo di Francia, per dargli la possibilità di essere inquadrato all'interno della nuova aristocrazia napoleonica e quindi di essere parte della grande vittoria di Napoleone sulle forze avverse. Cadoudal non ha mai risposto favorevolmente, si è trovato, ha fatto più di un abboccamento con gli ufficiali, gli emissari napoleonici, l'ultimo nel castello di Beauregard, sembrava quasi che poi in realtà ha continuato a fare quello che sapeva fare meglio, cioè continuare a fare la guerriglia e continuare a essere un oppositore attivo, essere l'anima attiva della controrivoluzione. Il processo per Christian Nikesi intanto prosegue, si individua Carbone, si individuano gli altri personaggi che sono dietro i fatti del 24 di dicembre 1800, cioè del treno nevoso. I personaggi che vengono chiamati a deporre sono sostanzialmente tre, sono Giuseppe Picot de Limolgan e Pierrot, cioè sono i due personaggi che più di tutti hanno lavorato per organizzare l'attentato. Attentato che tra l'altro ha avuto anche una prova di Naimitarda poche settimane prima per testare effettivamente la macchina infernale o semplicemente perché c'è stato un errore nella preparazione della macchina stessa. In particolar modo Saint-Réjean è stato colui che doveva dar fuoco alle polveri, cioè il ruolo attivo di mettere in moto questo ordigno ed era quello che faceva avanti e indietro e che diceva alla ragazzina di stare ferma, di stare tranquilla, che tutto andava bene. Le versioni in questo caso sono divergenti o almeno per la ricostruzione che hanno potuto fare, gli stessi attentatori non hanno capito perché le cose non hanno funzionato. Saint-Réjean disse che lui sarebbe riuscito a far saltare per aria Napoleone se non fosse che non gli era stata data l'informazione corretta dall'altro palo, cioè da Limolgan, che si trovava all'incrocio con Place de Carousel. Quando sono svoltate le carrozze lui non è riuscito a identificarle subito anche perché c'erano solo le carrozze di Napoleone, potevano essere altre e lui ne aspettava tre, una carrozza che doveva contenere la guardia del primo console, la carrozza di Napoleone e poi quella con Murat, Hortense e la famiglia dell'imperatore, del primo console. Ebbene in quel caso le carrozze erano due e quindi lui si trovò spaesato nel dover identificare da lontano le due carrozze che arrancavano tra la folla. Questo può essere stato uno dei motivi per cui la macchina venna azionata con quei pochi secondi di ritardo, bastanti però a far scappare la carrozza di Napoleone e far investire la carrozza precedente. Tra l'altro però nessuno fu ferito se non in modo particolarmente lieve. Tanto spavento, però i morti furono in strada. Un'altra versione dice in realtà che l'azione della macchina fu sbagliata perché fu proprio tarata male e quindi che la miccia accendendosi in ritardo chiede la possibilità a Napoleone di andare via e la bomba scoppiò in ritardo. Sta di fatto che durante il processo queste versioni non vengono alla luce semmai vi è una tacita dichiarazione da parte di Saint-Réjean il quale nega di essere stato concretamente colui che ha dato fuoco alle polveri, però di fronte alla condanna e alla possibilità di ricorrere, aveva due giorni per ricorrere contro la condanna, lui chiede e ottiene di essere ghigliottinato in 24 ore. Quindi evidentemente approva e sa che non ha possibilità di sfuggire alla ghigliottina, non avrebbe comunque e vuole dare prova di una morte virile. Tra l'altro in tutta questa vicenda è commovente il fatto che nel processo vengono a testimoniare non soltanto le persone che hanno visto, quindi che hanno visto il palo, che hanno visto Saint-Réjean che fa avanti e indietro, che hanno visto piazzare la carretta, che hanno visto anche l'esplosione, ma anche la madre in questo caso della ragazzina che viene a raccontare di come hanno ricevuto la notizia, che non hanno voluto vedere il corpo per evidenti motivi, il corpo è stato identificato dal fratello e che in questo caso chiedono sostanzialmente giustizia e testimoniano proprio l'estrema povertà di questa famiglia e il fatto che questa ragazzina avesse avuto pochi soldi per questo compito, esattamente 12 soldi per poter tenere per pochi minuti la cavalla, una somma per lei evidentemente significativa. È una scena molto commovente e la storia di Marianne Pessol circola in Parigi e diventa una storia ulteriormente struggente per il fatto della data di questo attentato che è la notte di Natale e quindi attorno a questo attentato vengono dipinti dei tratti particolarmente foschi. Chi è che ha il cuore di far saltare per aria una ragazzina di 14 anni e altre persone nella notte più santa che la notte di Natale, solo degli indemoniati, per cui caspita il nome macchina infernale è particolarmente calzante, solo persone senza Dio. Per fortuna il primo console è riuscito a trovare questi responsabili, portarli in tribunale, farli giustiziare e riportare così la giustizia, la pace e la serenità. Non è esattamente così perché in realtà il principale responsabile, l'organizzatore dell'attentato di Croissant-Nichez, cioè Georges Cadudal, è ancora a piede libero. Lui non è stato catturato e Cadudal orgogliosamente continua a essere un oppositore attivo e cerca in ogni modo di contrastare l'ascesa ormai inarrestabile di Napoleone. E già, però Cadudal si rende conto che la macchina infernale è fallita anche per la difficoltà di poter prevedere dove sarebbe passato Napoleone in un preciso momento, ha provocato troppi morti, morti che probabilmente gli stessi attentatori consideravano inevitabili e sacrificabili per i loro fini. No, per togliere di mezzo Napoleone bisogna rapirlo e poi ucciderlo per essere sicuri che muoia proprio lui e che non vi siano interruzioni o intoppi. Come si fa? Beh, si organizza un secondo complotto, è quello che passa alla storia come cospirazione dell'anno 12 o come affaire Cadudal. Ed è un complotto particolarmente ramificato, anche se folle, completamente delirante, perché come si fa a rapire il primo console? Diventa un lavoro d'équipe che va fatto con un'abilità decisamente superiore a quella che poteva avere Cadudal, che era decisamente grossolano, capace a fare la guerriglia, ma molto limitato nelle sue azioni diplomatiche, nelle sue capacità organizzative, come il fallito attentato di Acosta e Niquet aveva testimoniato. Ed eccoci dunque con Cadudal che si ritrova con altri esponenti della nomenclatura militare francese che si trovano in disaccordo con Napoleone. Perché, insomma, l'invidia è una brutta bestia, Napoleone è un militare, ma anche altri militari ritengono di avere le qualità per poter guidare la Francia. Non c'è solo Napoleone, c'è ad esempio Vittor Moreau, che è uno dei più importanti militari di quegli anni e che era a capo dell'armata del Reno e che aveva anche avuto delle battaglie vittoriose nel suo curriculum, ma particolarmente apprezzato dai soldati. Perché Moreau no e Bonaparte sì. e Pichégru, che è un altro oppositore. Anche lui si ritiene di poter essere in grado, perlomeno non di guidare la Francia, ma di fare in modo che Napoleone smetta di nuocere. In tutto questo Pichégru, che è un personaggio abbastanza sconosciuto oggi, però all'epoca, noto come molti ufficiali dell'epoca napoleonica, sembra essere un po' la guida, la guida attiva di questa strampalata organizzazione per rapire e uccidere Napoleone. Pichégru nel tempo dimostra una sempre maggiore ostilità verso Napoleone e si lega agli ambienti monarchici. La cospirazione è chiaramente guidata da Caduidale e cerca di eliminare Napoleone, prendere il controllo della capitale, prendere il controllo dell'esercito e nominare alla guida della Francia un esponente di casa reale. Già, bisogna trovargli gli esponenti di casa reale, perché molti non sono più tra noi, molti hanno perso la testa e, insomma, Luigi XVI lo sappiamo, il figlio è morto giovane, Luigi XVII, ci sono Luigi XVIII, che non sta simpatico a nessuno, e Carlo X, insomma i futuri Luigi XVIII e Carlo X, che sono decisamente antipatici. e le speranze dei monarchici si orientano verso dei principi che noi conosciamo un po' meno. Il principe di Condè, ad esempio, è uno di questi. Però è tutto molto nebuloso, anche perché si tratta di speranze. All'atto pratico, nessuno di questi principi si vuole schierare, anche per un'evidenza. Si tratta di un'operazione disperata, un'operazione che avrà scarsissime possibilità di successo. Ed effettivamente la polizia, con poco sforzo, riesce a ritrovare l'origine di questa operazione, riesce ad identificare Pichégru e Moreau, e immediatamente scattano gli arresti, senza che nemmeno si riesca a mettere in atto quello che doveva essere un tentativo di rapimento. Pichégru in carcere. Moreau in carcere, ma in realtà anche Moreau è poco probabile che venga mandato a morte, infatti poi sarà liberato da Napoleone. Moreau è popolarissimo tra i soldati, una sua condanna significherebbe inimicarsi una parte dell'esercito, Napoleone non può correre questo rischio. Quindi dopo una sonora a Ramanzina viene imbarcato per l'America e viene tolto di torno. Anche Pichégru era stato mandato in America, tra l'altro. Anche lui in bagno penale alla Cayenna, però era riuscito a evadere e tornare in Francia. Quindi non era proprio un personaggio da poco. Riuscire a fare un'operazione del genere lo deve annoverare tra gli atti di coraggio di un quell'epoca. Però è in carcere. In carcere si rivelano quelle che sono le strategie di questo possibile attentato, di questo rapimento a Napoleone. In maniera molto vaga, ma ormai gli attentati a Napoleone si moltiplicano. Tra l'altro non ci sono solo questi, per semplicità sono stato molto rapido, molto sintetico, ma Napoleone ha subito decine di attentati, come un po' tutti quanti i dittatori della storia, e basti pensare a tutta la serie di attentati che ha subito Hitler, attentati ai quali è sempre uscito miracolosamente il leso. Ebbene, anche Napoleone riesce a sfuggire a questi attentati, soprattutto grazie all'azione di Fouché della polizia politica. Fouché è un personaggio molto sinistro, molto fosco, un personaggio che possiamo definire veramente come l'iniziatore di un certo tipo di polizia, io la chiamavo politica, ma effettivamente quello era. E grazie a questo suo lavoro instancabile, Napoleone è sfuggito a molti attentati. In questo caso però bisogna dare il colpo di grazia a coloro che sperano nel ritorno della monarchia, o che pensano di poter togliere di torno Napoleone. Se ci pensiamo, prima Napoleone si era tolto dalla Francia gli oppositori di sinistra ed era riuscito con Roussain Niquez a trovare l'escamotage per togliere tutti gli oppositori giacobini e spedirli in esilio. In questo modo però aveva destato un certo clamore nella parte più intransigente della sinistra francese, perché si stava qualificando come un dittatore di destra, per certi versi. In questa maniera, cercando di eliminare i monarchici, invece, vuole ingraziarsi questo tipo di estremisti e non apparire troppo di destra, ma l'imperatore di tutti, in un certo senso, colui che si appresta a diventare imperatore e che non può pensare di rappresentare o di sembrare di una parte politica più di un'altra. Tra l'altro, Napoleone è uscito indenne dalla rivoluzione, ha attraversato tutta la rivoluzione riuscendo sempre a cavarsela, ma non ha quella medaglia al valore che molti rivoluzionari avevano, cioè quella di aver votato per la Repubblica e aver condannato a morte il re, che era a tutti gli effetti una medaglia al valore ai loro occhi. E dunque, quale re possiamo togliere dalla Francia? A chi possiamo condannare? Talleyrand, pare sia Talleyrand, suggerisce a Napoleone la figura di Louis-Antoine de Bourbon, cioè il duca d'Anghien. Il duca d'Anghien è un giovane, un bel giovane, un principe della famiglia reale, il quale potrebbe essere la figura alla quale si ispiravano Pichégru, Moreau e Cadudal nella loro cospirazione. Potrebbe, in realtà non è, è completamente innocente, ma ha un vantaggio agli occhi di Napoleone. Non si trova in Inghilterra, come molti emigrati, si trova a due passi dal confine, nel ducato di Baden. E perché non organizzare un bel rapimento sconfinando nel ducato di Baden per rapire il duca d'Anghien? D'altronde, Napoleone è Napoleone e il duca di Baden è un reuccio di serie B, tra l'altro destinato a essere a sua volta travolto dalla rivoluzione e dall'esperienza napoleonica. Per cui si tratta semplicemente di fare un piccolo sgarbo internazionale, di andare a prelevare, è invece un criminale di guerra che sta minando l'integrità della Francia. E allora viene davvero organizzato un rapimento nel ducato di Baden. Il principe, il duca d'Anghien, risiede a Ettenheim, che si trova a pochi chilometri di distanza da Strasburgo. Colancourt viene incaricato di organizzare il rapimento e quindi di schierare i soldati per semplicemente circondare la residenza del duca d'Anghien a Ettenheim e prelevarlo e portarlo a Strasburgo. La cosa si svolge in questa maniera. Il duca si trova nella sua casa, è notte, sentono dei movimenti nel giardino, viene immediatamente allertato, si sveglia, si mette quello che aveva, cioè un abito da caccia, sente bussare alla porta in maniera particolarmente energica, apre e si trova davanti Colancourt che gli chiede chi in casa è il duca d'Anghien. E lui risponde, avete l'identikit, trovatelo. Adesso la cosa divertente è leggere l'identikit del duca d'Anghien che era stato trasmesso per poterlo identificare. Statura un metro e 205 millimetri, capelli e sopracciglia a color castano, volto ovale, bislungo, ben fatto, occhi grigi tendenti al nero, bocca mezzana, naso aquilino, mento alquanto puntuto, ben fatto. Per l'epoca doveva essere, insomma, un bel ragazzo, non era particolarmente, era nel fiore degli anni, però era un identikit abbastanza vago, non c'erano le fotografie, ovviamente non si girava qui i ritratti. Quindi il duca d'Anghien sfida a identificarlo, anche se nella sua residenza non è che ci fossero poi tante persone. C'era lui, la moglie, Charlotte de Rohan, che è la nipote del cardinale de Rohan, e si trova il suo cagnolino, i suoi domestici, vengono tutti portati a Strasburgo, dopodiché identificato, viene portato a Parigi, in Rue du Bac, il ritorno a Rue du Bac, dove c'era il ministero degli esteri per un rapidissimo disbrigo di formalità. Dopodiché viene portato direttamente nel luogo dove verrà giudicato, cioè il castello di Vinson. E lì si svolgerà questo processo rapidissimo, un processo farsa, nel quale il duca d'Anghien deve rispondere di aver tramato contro la Francia, contro la Repubblica. Vi leggo alcuni estratti di un diario, il diario del brigadiere Offord, che si trovava in quel momento proprio quando viene portato il duca d'Anghien al castello di Bancan. Introdotto nella stanza, appunto ci dice il brigadiere, ci trova un giovine di una trentina d'anni circa, l'esterno del quale giustificava pienamente ciò che mi era stato detto di lui poco prima. Egli era molto pallido e sembrava stanchissimo. Questo signore ha sicuramente bisogno di pigliare qualche cosa, disse Harrel. Harrel è, tra l'altro, uno di quelli che avevano condannato la cospirazione dei pugnali di Ceracchi. Sempre lui, sono sempre le stesse persone che girano in questa storia. Siamo ai suoi ordini. Sono ben lontano da ricusare le vostre offerte, rispose il prigioniero con i modi più gentili e affabili. Mi hanno fatto venire senza fermarsi mai da Strasburgo fin qui. Ho potuto prendere ben poche cose dopo la mia partenza da quella città. Non vi cielo che in questo momento il mio bisogno di cibo è molto forte. Quindi, Ofor cosa fa? Va a cercare del cibo, però sono le dieci di sera, le locande sono chiuse, poi ci troviamo in campagna e non si sa che cosa trovare, riesce a trovare qualche avanzo. Un po' di minestra, una fetta di vitello. Le porge al prigioniero e si scusa per il fatto che c'è poco cibo. Nel momento di porre la mano alla zuppiera dove stava la minestra, a questo punto lui si volge verso Harel che rimaneva dietro e gli chiede con una grazia e un aspetto di grande nobiltà che non saprei definire. Signore, vorrei pregarvi di un favore. Spero non troverete indiscreta la mia domanda. Ho con me un compagno di viaggio che è il mio cagnolino che vedete là, il solo amico da cui non mi abbiano separato. La povera bestia ha fatto tutta la strada con me e dall'incirca di giuno come me da che abbiamo lasciato Strasburgo. Permettete che gli mostri alla meglio la mia riconoscenza dividendo seco questo piccolo pasto. Quanto mi incresce, risponde, scrive il brigadiero For, di avergli portato così poco. Potevo io mai immaginarmi che quel desinare sarebbe stato l'ultimo per lui. Ed effettivamente questo è l'ultimo pasto del duca d'Angian. il duca viene condannato praticamente su ordine di Napoleone. Il giudizio è ovviamente quello di condanna anche se tutti sanno che è completamente innocente ed estraneo ai fatti ma Napoleone vuole dare un segnale forte che anche lui in un certo senso ha partecipato alla rivoluzione non ha potuto condannare il re ma ha condannato un pretendente della monarchia. Ed ecco dunque che il duca d'Angian viene portato nel fossato del castello il 21 marzo 1804 e viene fucilato davanti al muro del castello. La scena è particolarmente toccante perché il duca si trova nella condizione di emulare in un certo senso Luigi XVI vorrebbe tenere un discorso non gli viene concesso vorrebbe ordinare i soldati di potergli sparare non gli viene concesso anche se riuscirà a gridare proprio nell'ultimo istante di mirare al suo cuore. Anche in questo caso leggo un piccolo passo signori dice loro con voce intrepida ho a chiedervi un servigio importante per me ma facile a prestarsi per la persona che se ne assume l'incarico c'è tra voi qualche uomo d'onore che voglia impegnarsi a rendermi questo estremo servigio? I soldati si guardano in faccia l'un l'altro infine un ufficiale avvicinatosi al principe si pone la mano sul cuore come per accertarlo che può contare sulla sua parola. Il duca gli dice qualche cosa sotto voce è così da vicino che nessuno poteva dirne le parole subito dopo l'ufficiale si volge e parla ai soldati gendarmi qualcuno di voi avrebbe un paio di forbici? Queste parole passano di fila in fila lungo lo squadrone uno di quei soldati aveva effettivamente un paio di forbici e queste passano di mano in mano il principe le riceve e se ne serve immediatamente per tagliare una ciocca dei capelli indi si leva di dosso non so se un anello o un gioiello perché la nebbia non permetteva di distinguere gli oggetti racchiudere predette cose entro una carta che rimette all'ufficiale sono appunto l'anello della fede nuziale una ciocca di capelli da consegnare alla moglie Charlotte e tutta questa vicenda resta anche il cagnolino il cagnolino è un animale cui il duca era particolarmente affezionato che dicono le cronache che resta per un po' avvegliare proprio la sepoltura del padrone perché viene fatto cadere in una fossa e lì ricoperto dove poi viene posto un cippo a sua memoria e poi del cagnolino io non sono riuscito a trovare traccia io spero l'abbiamo riportato alla moglie però questa è una è una storia decisamente tragica un principe totalmente innocente che viene prelevato in una maniera assolutamente inusuale e contraria a tutti i rapporti tra gli stati per giustificare l'ingiustificabile ovviamente l'esecuzione rapidissima del principe che avviene nell'arco di poche ore getta sul regime di Napoleone un vero e proprio discredito da parte di tutti gli stati d'Europa ma in fondo la rivoluzione non era andata bene a nessuno delle teste coronate e discredito più discredito meno per Napoleone quello che contava era di poter dare un segnale interno alla Francia che lui non era né da una parte né dall'altra né di destra né di sinistra lui era con lui e questo tipo di operazione effettivamente contraddistingueva tutti coloro che lavoravano con Napoleone perché se pensiamo a un taleran o a un fouché con tutti i cambi di casacca che hanno fatto e in fondo la volontà di difendere non la rivoluzione o la repubblica o l'impero ma difendere loro stessi bene comprendiamo bene l'operato di Napoleone anche se appunto questo è stato un crimine condannato della storia e in un certo senso anche un po' insabbiato perché dell'esecuzione del duca d'Angian di cui parlò l'Europa per mesi e che divenne oggetto di opere d'arte o venne vero proprio oggetto di discussioni parla anche Tolstoi in guerra e pace ecco oggi si sa si sa relativamente poco almeno in Italia ma di tutto questo non abbiamo ancora parlato degli altri responsabili della congiura cioè di di Muro abbiamo raccontato non vi ho detto che tornerà poi quando le cose saranno critiche per Napoleone tornerà in Europa si arruolerà con l'esercito russo per dare colpo di grazia a Napoleone morirà tragicamente colpito a morte durante la battaglia di Dresta mentre Pichégru viene trovato impiccato strangolato in carcere con la sua cravatta pochi giorni dopo l'esecuzione del duca Denghian ovviamente circola la voce che si sia suicidato nessuno era lì per verificare può anche essere stato strangolato per evitare che parlasse che rivelasse cose di certo la morte di Pichégru è molto particolare molto sospetta circolano delle immagini facilmente reperibili di Pichégru che si strangola da solo e Cadudal Cadudal è ancora a piede libero viene rintracciato perché in tutta Parigi c'erano affissi i manifesti in stile Far West con la sua faccia e la scritta Georges perché lui veniva era noto in modo particolare con il suo nome Georges così è sempre citato nei testi a volte anche anche quelli scritti successivamente Georges bene passeggia per Parigi in cui tra l'altro pare che lui si orientasse poco come molti bretoni molti di questi insorgenti erano bretoni si orientavano poco e malvolentieri a Parigi dove andavano sempre con qualche problema di orientamento viene identificato lui è in carrozza cerca di fuggire c'è un seguimento da film lui si trova alla fine ad essere raggiunto dai gendarmi a Quattrovent e viene viene raggiunto riesce in una collutazione a uccidere a pistolettate uno dei gendarmi dopodiché viene placato e viene tenuto dalle guardie in un applauso generale perché tutti in strada riconoscono che lui davvero è Georges e a questo punto si trova a essere messo in carcere rapidamente interrogato e Napoleone ordina l'esecuzione di questi ultimi oppositori di destra che devono essere ghigliottinati pubblicamente va detto però che Napoleone aveva grande stima di Georges Cadidal e probabilmente non l'avrebbe ghigliottinato almeno questo pensava Cadidal se possiamo interpretare il pensiero di Napoleone invece lui sperava che Cadidal chiedesse una grazia perché in fondo lui voleva in qualche maniera riciclarlo utilizzarlo per i propri fini in quanto era un grande stratega questo bretone la cosa non avviene avviene anzi che Cadidal viene portato alla ghigliottina insieme a un gruppo di persone che avevano fatto parte chi più chi meno nell'affaire dell'anno dodicesimo e a questo punto lui dovrebbe essere ghigliottinato per ultimo perché questo diceva ecco il protocollo che se c'era l'organizzatore di una banda di criminali ecco doveva essere lui l'ultimo a finire sul patibolo lui però chiede che venga invertito l'ordine e ottiene questo permesso proprio per evitare che rimanendo per ultimo giunga un'eventuale grazia da parte di Napoleone il quale in questa maniera potrebbe in certa maniera legarlo a lui o perlomeno svergognarlo e togliergli quella dignità di essere morto laddove sono morti anche tutti gli altri suoi compagni pare tra l'altro che ormai alla fine Cadudal abbia mormorato signori noi avevamo avete lottato per togliere dalla Francia un re ed ecco un imperatore o l'altra versione volevamo ridare alla Francia un re ma gli abbiamo dato un imperatore e quindi siamo ormai alla fine Cadudal sale sul patibolo al rosario sta recitando il rosario e recita proprio la fine dell'avemaria dicendo prega per noi peccatori ora nunc e il boia gli dice cerca di continuare pensa che lui si sia fermato per una sorta di ritrosia di paura invece uno dice no no perché ora è l'ora della mia morte il resto è superfluo e quindi in quel momento dà ordine al boia di ghigliottinarlo e così finisce Giorgio Cadudal e finisce l'anima della contro rivoluzione bretone continueranno a esserci dei tentativi molto sporadici di far rinascere la contro rivoluzione in bandera in bretagna in realtà sarà poca cosa va detto che il corpo di Cadudal verrà tenuto per studi scientifici e quindi sarà esposto alla facoltà di medicina e tenuto per non so dirvi per quanto comunque tra studi scientifici dopodiché troverà giusta sepoltura e postumo gli verrà dato il titolo di maresciallo di Francia ovviamente con il ritorno di Luigi XVIII con tutto questo viene una riflessione una riflessione che mi veniva in mente citando prima la questione di Hitler che ebbe degli attentati come molti altri dittatori ma effettivamente anche Hitler scampò a un attentato quello del 20 luglio 1944 durante l'operazione Valkyria quella celebre nella quale poco prima tra l'altro dell'arrivo di Mussolini Hitler rischiò di andare per aria perché una valigetta piena di un esplosivo al plastico venne posta da von Stauffenberg poco lontano la sedia dove si sarebbe seduto Hitler ebbene questo attentato famoso dal quale è stato tratto anche un film fallì perché von Stauffenberg doveva organizzare mettere in atto una macchina dopo Hitler e quindi correre rapidamente a Berlino e dare ordine che le SS venissero arrestate che vi fosse un cambio del regime che l'esercito non rispondesse più ai suoi vecchi capi ma a quelli nuovi identificati dagli attentatori e che quindi crollasse il regime nazista tutto questo non avvenne semplicemente perché la riunione di Hitler con il suo stato maggiore fu organizzata in un capanno e non nel bunker dove pensavano gli attentatori perché nel bunker avrebbe fatto sicuramente più danni mentre il capanno aveva semplicemente le finestre aperte quindi era facile che l'esplosivo l'esplosione fosse meno meno forte e più diradata e poi perché von Stauffenberg semplicemente non si immolò per la causa e dunque continuò Hitler fu sbalzato dalla sedia rimase rintronato però era vivo era vivo e anzi ordinò una persecuzione totale nei confronti di tutti i cospiratori alcuni tentarono di suicidarsi altri furono fucilati come lo stesso von Stauffenberg e molti molti altri furono invece raggiunti anche semplicemente parenti mogli e uccisi nei modi più creativi uccisi impiccati ai pali della luce con ganci da macellaio con le corde del pianoforte ecco quindi delle cose anche barbare atroci pare addirittura Hitler si sia abbia dato ordine di riprendere questi patimenti per poterli poi rivedere e proiettarseli in casa quindi qualcosa veramente di agghiacciante tutto questo avvenne perché non vi fu il sacrificio dell'attentatore si sarebbero potuti evitare molti morti molti morti innocenti come quello della povera Marianne Pesol o quello di Heinrich Berger nel caso di Hitler che tra l'altro passò per nazista a suo malgrado perché era quel giorno lì nel capanno era lo stenografo di Hitler ma lui era un cattolico aveva sempre rifiutato il nazismo e in quel caso si trovò a essere uno dei pochi morti nonostante si dovesse uccidere Hitler si finì per uccidere un povero innocente evidentemente la storia si collega sempre a distanza di molti anni la stessa cosa se gli attentatori di la povera Saint-Nichez fossero riusciti avessero avuto la diciamo la determinazione di sacrificarsi forse effettivamente la carrozza di Napoleone sarebbe saltata per aria e su questo si può dire che chissà come sarebbe andata la storia quanti morti si sarebbero potuti risparmiare in entrambi i casi sono domande alle quali ovviamente non si può dare risposta in cui solo la nostra immaginazione può dare risposta la storia non si fa con i secoli ma però sicuramente è un gioco di fantasia che potrebbe anche stimolare delle delle ricostruzioni fantasiose e anche solleticare un po' la nostra la nostra stessa coscienza perché quanto siamo in grado noi di sacrificarci per quello in cui crediamo tra l'altro il sacrificio in questo caso avrebbe anche permesso magari di evitare vittime innocenti come la povera Marianne come tutte le persone impiccate con le corde di pianoforti per il diletto di Hitler quanto siamo in grado di sacrificarci per ciò in cui crediamo con questo io penso di aver concluso spero che questa relazione sia stata interessante per lo meno per me è stato decisamente interessante riuscire a ricostruire i fatti penso anche che essendo poco noto sia una pagina di storia napoleonica degna di essere raccontata e degna di essere ricostruita io vi ringrazio e spero di non avervi annoiato